Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare ovviamente insieme a voi di alcune teorie ed alcune cose molto molto interessanti relative la season che sta per arrivare ragazzi. Stiamo già parlando di season 8, vedremo ragazzi nel video di oggi molti elementi già presenti nel nostro Fortnite che ci fanno un po' capire questa season 8 cosa potrà contenere. Daremo anche ragazzi un'occhiata a dei nuovi, ad un nuovo deltaplano che è stato trovato e che potrebbe collegare il filo conduttore e ovviamente ragazzi vi mostrerò un paio di leaks appena scoperti super super interessanti. Che sicuramente non vi faranno pentire di andare avanti a giocare in questa season di Fortnite ma ragazzi prima ve lo ricordo mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie su tutte le curiosità di Fortnite ma ragazzi andando avanti voglio anche farvi la domanda ovviamente la domanda quella che vi faccio ogni video dove voglio il vostro commento proprio qui sotto ragazzi e la domanda è ovviamente semplicissima. A che livello stagionale sei arrivato? Vediamo un pochettino ragazzi come siete messi se ci sono delle buone probabilità che possiate andare in alto. E' vero che la season è iniziata da poco raga ma è anche vero che bisogna darsi da fare se si vuole cercare di arrivare in alto e magari perché no vedere se anche in questa season ci regaleranno qualche cosa nell'ultimo livello del pass battaglia. Non ero ragazzi a caso nel picco polare perché volevo iniziare appunto il video parlandovi di lui. Come sappiamo ragazzi questa è l'immagine che c'è che c'è stata presentata quello che vedevamo nella nei primi giorni della season 7. Quindi come sappiamo ragazzi il picco polare aveva questo enorme blocco di ghiaccio che nascondeva il castello al suo interno e ragazzi ovviamente andando avanti lo sappiamo bene tutti come siamo arrivati praticamente adesso c'è il cubo di ghiaccio che ha cominciato a sciogliersi e qui già ragazzi alcune teorie che parlano del dello scioglimento del cubo di ghiaccio sono molto molto interessanti anche perché sappiamo che il cubo di ghiaccio il grande iceberg non ha solamente due fasi ma ne ha bensì tre. Noi abbiamo visto solamente la prima che è quella che state vedendo alle mie spalle sappiamo che sotto a quella torre gigante ci sarà tutto il castello che verrà rilevato rivelato con alcune case intorno e già qua ragazzi come vi stavo anticipando ovviamente si potrebbe pensare che siano delle intuizioni sulla nuova season. Un'altra cosa ragazzi che ci fa pensare molto è il lago di ghiaccio che ha travolto il nostro boschetto bisunto come vedete ragazzi se noi nel lago di ghiaccio ci muoviamo e andiamo ad esempio sotto dove c'era il negozio possiamo vedere come in realtà tutte le cose che c'erano prima nei parcheggi sono semplicemente rimaste lì ma sono congelate ragazzi. Questo ci fa pensare ci fa capire che intanto non hanno tolto il boschetto bisunto ma è semplicemente sommerso e che probabilmente potremo assistere ad un disgelo che magari vedrà la comparsa di un nuovo lago nella mappa di fortnite. Perché comunque ragazzi per chi si ricorda l'ex loot lake il lago che c'era al centro della mappa è stato comunque un grande dispiacere da parte di tutti i giocatori averlo perso con l'evento del cubo ovviamente. Ma andando avanti ragazzi volevo anche parlarvi un pochettino di alcuni oggetti di alcuni elementi che si trovano nel battle pass e che sono molto interessanti. Partiamo ragazzi dagli spray quindi come vedete ragazzi abbiamo lo spray del pupazzo di neve che si scioglie attenzione abbiamo lo spray dei pesci che abboccano al lamo e abbiamo lo spray di un oblò con il mare ovviamente dietro quindi di un oblò di un sottomarino. E' già qua col sottomarino ragazzi ci viene in mente ovviamente quello che è già presente nella nostra mappa e che sinceramente nessuno ha ben capito da dove arriva e perché sia lì. Tra l'altro ragazzi tra gli standardi che potremo sbloccare nel pass battaglia c'è appunto un sole gigante c'è addirittura un potrebbe sembrare un kraken un polpo gigante comunque sempre qualcosa relativo al mare. E soprattutto se andiamo nella pagina finale del pass battaglia c'è addirittura una fotografia estiva dei tre magazzini che quindi ragazzi non si sa potrebbero anche tornare a fare capolino nella nostra mappa di Fortnite. Tra l'altro ragazzi non so se lo sapete ma Epic Games da pochi giorni ha rilasciato gratuitamente o meglio ha messo a titolo gratuito uno delle sue creazioni che è Subnautica. Io non so se lo avete mai visto ragazzi vi lascio a 30 secondi di trailer. Era un trailer sbagliato. Non è male è particolare come gioco. E tra l'altro guardate alla fine c'è una barca che è molto molto simile al sottomarino. Guardate adesso. Quindi ragazzi molto molto interessante anche qua ragazzi si parla di mare. Chiedo scusa per il trailer che è partito che l'ho detto sto imparando a utilizzare i tasti e ha scappato il tasto sbagliato. Come si dice molto molto interessante intanto se avete voglia di provare un videogioco nuovo sempre di casa Epic Games Subnautica potrebbe essere proprio quello ragazzi. Si parla come già vi dicevo ancora di mare quindi ragazzi staremo solo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni in modo da poterci capire qualcosa in più. Ma le sorprese non sono finite ragazzi perché vi voglio confermare che da qualche ora negli file di gioco sono incominciate ad apparire ufficialmente le voci relative alle tre skin di ghiaccio di cui abbiamo già parlato ieri. Quindi non mi soffermerò molto il Cupid Winter che è praticamente Love Ranger, il Rave Winter e abbiamo anche il Red Knight. Ma ragazzi volevo invece proseguire facendovi vedere questa figata. Questo ragazzi è una super esclusiva recuperata dai dataminer nel gioco ed è un nuovo deltaplano che probabilmente arriverà con la patch 7.1. Quella che dovrebbe uscire in realtà fra poche ore o alla peggio giovedì. Molto molto figo ragazzi un deltaplano che ha quattro reattori nel senso adesso io non capisco come catalogare quei reattori nel senso e non capisco in che contesto collocare questo deltaplano. Non sappiamo assolutamente a quali skin possa essere attribuito secondo me ragazzi. Oh io ci vedo il mare pure qua io ci vedo il mare pure qua non so perché mi dà l'impressione tipo di una tavola da surf con delle cose che si aprono. Io ve lo faccio vedere voi prendete i leaks così come li vedete e ovviamente ragazzi appena ne sapremo di più vi dirò di più. Chiudo ragazzi parlandovi al volo delle sfide della settimana numero 3 anche qua si parla di prendere 5 zipline in 5 match diversi come primo stage atterrare a rifugio ritirato come prima sfida difficile del post battaglia gratuito fare 2 kill con un'arma leggendaria. Andiamo a fare poi danni con la pistola agli avversari dobbiamo di nuovo suonare i campanelli nelle case con un avversario dentro 3 kill con le smg e 3 kill con le pistole. Qualora ragazzi queste sfide si rivelassero quelle vere come di solito sono direi che non sono assolutamente difficili quindi ragazzi alla peggio faremo solamente il video della stella segreta della location non appena scopriremo il banner il loading screen della settimana numero 3. Beh ragazzi io spero che anche queste news vi siano piaciute il video vi sia interessato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ma si ciao Ciao